Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata in questo video parleremo di Lazio, precisamente di un giocatore che potrebbe approdare nella società capitolina vi è un piccolo giallo sul trasferimento in sé ma anche sulle modalità di trasferimento ma è un punto che andremo ad analizzare nel proseguo del video questo giocatore, come avete anche intituito dal titolo, è Mario Rila, centrale difensivo classe 2000 dell'armadio di Castilla prima però di andare a lasciare una questione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale attivate la campagna delle notifiche per rimanere aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare qui sotto in info box inoltre trovate il link al mio gruppo telegram dove si parla di calcio a 360 gradi senza colore né di maglia né di bandiera ma chi è questo Mario Rila? Allora, come io avevo criticato l'interesse che Lazio provava nei confronti di Ciust beh, per Mario Rila la questione è diversa perché? Allora, innanzitutto diciamo che è un giocatore di 185 cm, destro di piede, di ruolo difensore centrale che ha una grande fisicità diciamo che quasi vedendolo sembra che sia più alto ha un fisico veramente mostruoso è un giocatore alto ma comunque tende ad essere longilineo quindi ha queste lunghe leve che gli permettono appunto di avere queste falcate belle lunghe e devo dire che ha una velocità molto 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 alta rispetto alla sua muscolatura rispetto alla sua costituzione fisica è un giocatore che corre in un modo un po' particolare tende ad essere un po' ingobbito belotti style anche se è così, non così proprio accentuato ma è un giocatore che appunto fa della fisicità la sua arma migliore un giocatore che comunque di piede non è assolutamente male perché comunque è un centro difensivo che molte volte avanza sulla giocazione gli piace portare palla un po' ricordando il lusio del Bayern di Monaco insomma quel difensore centrale che gli piace effettuare le percussioni però ha anche una dischietta versione di gioco nel senso non corre quasi mai più del dovuto quindi appena magari va avanti passa un avversario ne passa due perché giustamente magari se il giocatore è in posizione statica o lui va in velocità ha un vantaggio se hai comunque una tecnica che ti permette di toccare il pallone quel poco prima per appunto disorientare l'avversario ma non corre mai appunto più del dovuto una volta effettuata la giocata tenta lo scarico giustamente è un giocatore che è molto concentrato che effettua i cosiddetti blocks vale a dire quando tu aspetti l'avversario che ti punta nell'uno contro uno tu con intelligenza e tempismo di intervento quando il giocatore viene verso di te ok? tu sei fermo o comunque similfermo non sei in progressione blocchi il pallone glielo stoppi glielo rubi quindi anche tatticamente è molto 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 intelligente ma di contro anche se si gioca a difesa alta come a Sarri piacerebbe è uno che ha una grande velocità nei recuperi quindi se lancia lunga palla scoperta difesa è alta lui deve correre indietro verso la palla con l'avversario che sempre gli va incontro al pallone ma da due linee direttrici diverse lui ha una grande velocità è un giocatore parecchio abile anche negli interventi bassi nelle scivolate è il ruento ma quanto basta un giocatore che quando gli va contro è innegabile che provi un certo tipo di strizza perché comunque veramente è un un marcantonio 185 centimetri di marcantoneità piazzato forte e anche se ti vieni contro lui a palla al piede è un po' un problema per questa corsa questa irruenza quindi che succede? perché vi ho fatto il parallelismo con Ciust? perché a differenza dell'altro centale difensivo Real Madrid appunto Ciust che è molto più un medium man è molto più un difensore centrale non di grandissime qualità lui invece ragazzi ha qualità importanti voi mi direte d'accordo ma gioco nel Real Madrid Castilla l'anno scorso ha attualizzato 34 presenze 2 gol 1 assist vero però io valuto le potenzialità del calciatore che secondo me ha avuto nonostante sia stato già convocato l'ancelotta ha avuto poche possibilità ma perché comunque hai giocatori importanti come Militao tu fai anche a livello economico il concetto è questo se io prendo un giocatore a 50-60 milioni di euro io posso avere anche il Primavera che è potenzialmente più bravo di questo giocatore che ho pagato tantissimo ma io devo far fruttare il mio investimento quindi che fai preferisci far fruttare il tuo investimento eventualmente cedi il difensore centrale o scusate il giocatore che comunque ha buone prospettive ma non mi ha costato niente quindi lo vedo bene lo vedrai bene in una difesa di Sarri a livello tattico lui ha giocato il difensore centrale ma in un 4-2-3-1 nel 4-2-3-1 di Raul quindi questo cosa comporta a differenza insomma del 4-3-3-1 che difendi in modo diverso perché tu comunque quando sei centrale con davanti due centrocampisti sì puoi dare una mano puoi andare in progressione ma non puoi particolarmente salire andare avanti fare come ti pare perché comunque hai un uomo in meno in copertura quello in meno in copertura che tu avresti con un 4-2-3 e soprattutto con un 4-2-3 come quello di Sarri dove ha dove contempla il mediano di impostazione a Napoli con Giorginio addirittura al Chelsea poi a volte aveva utilizzato anche Kantè però comunque preferiva Giorginio l'anno scorso con Lucas Leiva che è un giocatore un po' difficilmente gestibile per via dei ritmi di gioco e quest'anno con Marcos Antonio Marcos Antonio che io reputo più una mezzala però nel gioco di Sarri ci può stare mettere un mediano lì davanti ai difesi che ti gestisca il gioco quindi cosa comporta questo che potrebbe essere il mediano magari come un Marcos Antonio che potrebbe retrocedere di qualche metro con un lieve allargamento dei centrali e soprattutto con il centrale più adatto in questo caso e quando dovesse appunto arrivare Gila a Lazio potrebbe essere lui l'indiziato uno di quelli che prende palla e va avanti Koulibaly ad esempio quante volte l'abbiamo visto fare progressioni sulla sinistra o sulla destra palla al piede ma il tutto grazie alla sua fisicità alla sua debordanza alla sua che ripeto quando lo vedi davanti magari non è Zidane di piede però lo vedi un pochino ti prende perché sono infermabili questi giocatori nonostante comunque Koulibaly abbia un po' di centimetri in più di Cius perché se non ero Koulibaly è un e90 un e91 se non erro è a memoria poi magari potrei anche sbagliarmi magari differenzi di due centimetri però per farvi capire il concetto questi difensori così preponderanti a Sarri piacciono quindi uno come Gila lo vedrei 300.000 volte meglio è inserito in un contesto Lazio piuttosto che un Ciust ora parliamo adesso in primis del giallo sull'ipotesi del trasferimento nel senso che il gioco fondamentalmente Lazio ha l'accordo sia col calciatore che con la squadra il problema è uno sembra che vi sia stata negli ultimi giorni una piccola frenata perché il Monza o meglio Casale ha rifiutato in extremis il Monza quindi a Lazio potrebbe tornare sul classe 98 della Sverona che il valore dovrebbe aggirarsi verso i 10 milioni di euro però di contro da me si parla di Romagnoli 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 ma ancora c'è quella piccola distanza che magari secondo me potrebbe anche essere colmata e quindi l'acquisto eventuale di Mario Hilla è stato messo un pochino in stand by quindi potrebbe arrivare ma anche no la seconda problematica riguarda la formula di trasferimento perché vi sono due versioni la prima è prestito con diritto di scatto a 5 milioni e un diritto di recompra a favore del Real Madrid la seconda è che mi auguro mai sia questa qui perché veramente è una follia totale per un discorso di programmazione dell'acquisto prestito con diritto di riscatto a 5 milioni ma o con obbligo comunque diritto d'obbligo di riscatto a 5 milioni in Real Madrid si garantisce sia un diritto di prelazione quello poi il giocatore dovesse essere riacquistato che il 50% della futura di vendita allora il discorso del percentuale della futura di vendita secondo me è una spalla di Damocle perché è vero che dici vabbè ti do quello in futuro però mi abbasso il corso del cartellino sì ma poi si sa che poi su quella percentuale il club che va a vendere ci gioca abbiamo visto la Juve con Bentancur lo prese e mi pare che il il Boca avesse tipo il 30% sulla futura di vendita ma Bentancur è rimasto a Juventus per anni bloccato per questa cavolo di percentuale non è che il club venditore dice io te lo do e poi quello che ricavo do il 15% dice io faccio il valore del mio calciatore e voglio quello tu squadra che lo vuoi devi accollarti il costo della mia clausola scusate della mia percentuale di rivendita concessa al club cessionario beh questo è un po' una cavolata cioè nel senso è il se tu fai un trasferimento e decidi di mettere quella clausola se tu club che ci vuoi pensare non deve essere il club acquirente ma quello cessionario quindi se fosse veramente quest'ultima formula o quantomeno che sia prestito con diritto da obbligo 5 milioni e l'eventuale di compra ok ma la percentuale del 50% sulla futura di vendita è una follia totale perché se poi il giocatore esplode valutato 20 milioni non è che a Lazio dice te lo vendo a 20 ma io poi dici lo do a Real Madrid dice io lo valuto 20 e io voglio i 20 perché giustamente tutti fanno un ragionamento prodomo sua il club il futuro club acquirente deve dire deve sobbarcarsi l'onno di pagare i 10 milioni di euro in più a Real Madrid quindi vuole totale non 20 ma 30 milioni siamo veramente alla follia va bene calcio creativo però quando sono così vincolanti percentuali e clausole reputo che il dirigente che ha imbastito l'accordo o si è messo un po' a 90 o il suo lavoro l'ha fatto un po' così però comunque questa è l'impressione mia ragazzi fatemi sapere qui sotto cosa è pensato se tifosi da Lazio che non vi invito come sempre a share un like al video scrivi al canale e trovate la campellina vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ovviamente postatevi su Telegram ciao ragazzi